e metto ma di ciò di un sì perché si capiva che si è trunciato e metto ma di ciò di un sì perché si capiva che si è trunciato grazie a tutti non è il nostro corso e il nostro corso e il nostro corso e il nostro corso. Grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti i nostri amici.